Nel video di oggi, vi mostrerò dei rimedi naturali per combattere il reflusso gastrico. Ma prima di iniziare, assicurati di iscriverti e di attivare la campanella delle notifiche. Se soffri di reflusso, probabilmente hai familiarizzato con rutti e tosse dopo aver mangiato, insieme a quella sensazione di bruciore allo stomaco, come se la tua digestione non stesse andando bene. I sintomi tendono a peggiorare quando ci si china per raccogliere qualcosa sul pavimento o quando ci si sdraia dopo aver mangiato. È essenziale prestare molta attenzione a questi sintomi, poiché possono causare un'infiammazione all'esofago, chiamata esofagite. Uno dei migliori rimedi naturali per curare il reflusso è un frutto che probabilmente hai già in cucina. Le mele rosse. La mela rossa è un alleato dell'apparato digerente in quanto cura le pareti dello stomaco. Mangia una mela ogni volta che inizi a sentire i sintomi del reflusso acido, e ti sentirai meglio in pochissimo tempo. Un altro potente alimento per il trattamento del reflusso è lo zenzero. Aiuta in modo diverso dalle mele, prevenendo il reflusso, riducendo il tempo di permanenza del cibo nello stomaco. In questo caso, il modo migliore per consumare lo zenzero è prepararci un tè. Per preparare il tè allo zenzero, usa 2,5 cm di zenzero fresco o un cucchiaino di zenzero in polvere e un litro di acqua. Metti entrambi gli ingredienti in una pentola e fai bollire per 8-10 minuti. Spegnete il fuoco, chiudete con un coperchio e aspettate che sia caldo per filtrare e bere. Bevi il tè da 3, a 4 volte al giorno, durante o dopo i pasti. L'acqua con il limone è un altro buon rimedio naturale. Acqua e limone è un antico rimedio per alleviare il bruciore di stomaco e il reflusso acido. Funziona meglio se bevuto subito dopo il risveglio a stomaco vuoto. Scalda leggermente l'acqua, se diventa troppo calda, aggiungi dell'acqua fredda, quindi aggiungi il succo di un limone appena spremuto. Bevilo e aspetta 15-20 minuti prima di fare colazione. Tuttavia, alcuni studi hanno notato che l'acqua e il limone può effettivamente peggiorare i sintomi del reflusso acido in alcune persone. Provalo e vedi come funziona per te. Altri suggerimenti per ridurre i sintomi sono, smettere di fumare, non indossare abiti che comprimono lo stomaco, non fare esercizio subito dopo un pasto, non sdraiarsi dopo un aver mangiato, aspetta sempre 3 ore, ed elevare la parte superiore del corpo se hai reflusso notturno. Naturalmente, questi trucchi funzionano per i sintomi iniziali, ma dovresti sempre cercare assistenza medica se peggiorano. Prova uno di questi rimedi naturali per il reflusso acido e condividi la tua esperienza con noi.